ciao a tutti e bentornati sul mio canale oggi vi porto a casa mia e vi faccio provare la merenda che ci preparava la mia nonna tramezzini tonno e uovo detto questo direi che possiamo iniziare con la ricetta dai andiamo in cucina per preparare i tramezzini tonno e uovo ci servirà naturalmente del pane per tramezzini che io ho già tagliato a triangoli poi sale pepe maionese scorcia di limone tonno cipolla tritata fine e un po di oliva rondelle metto la maionese e tutti gli altri ingredienti in una ciotola poi mischio tutto bene una volta che la crema è pronta prendo il pane dei tramezzini e lo spalmo abbondantemente con la crema al tonno metto qualche foglia di insalata e poi chiudo con l'altro triangolo di pane una fetta di uovo sopra metto una bella bandierina per decorare e li lascio in frigo per una mezz'oretta prima di mangiare adesso li sistemo in un bel piatto e siamo pronti per fare merenda spero che questa ricetta vi sia piaciuta vi aspetto alla prossima ciao ciao